Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buongiorno a tutti, ci siamo ragazzi, nuovo video di Calcio Mercato Lazio, mi raccomando recuperate anche quello di ieri sera, lo trovate in alto a destra, non di qua, di qua, in alto a destra nelle schede, ragazzi seguitemi su tutti i social, Instagram, TikTok dove sono sempre attivo e ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, mettendo anche ovviamente un like, un bellissimo mi piace a questo video. Signori, tantissime notizie, parliamo dalle belle novità, perché ragazzi, Ivan Provedele e anche Mattia Svesino, di cui abbiamo parlato approfonditamente già nel video di ieri sera, per oggi andremo a aggiungere qualche dettaglio, qualche parere che già vi ho dato sul giocatore, sono in procinto di vestire la maglia bianco celeste, quindi in settimana si dovrebbe chiudere per entrambi, ma ecco la notizia calda di oggi, appunto l'accordo trovato finalmente anche con lo Spezia per quanto riguarda la Prodo. del portiere friulano, classe 94, vestirà la maglia della Lazio, allo Spezia andranno 2 milioni e mezzo, poi lo Spezia deve riconoscere una bella percentuale all'Empoli, ex proprietaria del cartellino dell'estremo difensore, c'era già l'accordo da tempo con il giocatore che voleva venire tutti i costi alla Lazio, infatti io vi ho sempre detto, magari andrà un po' per le lunghe, però la volontà del giocatore è chiara, vestire l'aquila sul petto, avere l'aquila sul petto, quindi sarà inesorabilmente un giocatore alla Lazio. Così sarà, percepirà un milione, poco più a stagione e farà il vice Maximiano. Poi attenzione, adesso noi avremo due portieri, bravi entrambi, uno diciamo molto giovane, classe 99, che viene da un campionato estero, che magari non parla ancora benissimo italiano, che non ha ovviamente grossissima esperienza e reduce da una buona stagione a Granada, nonostante abbia subito tanti gol, la squadra andalusa si è retrocessa, ma ovviamente non è colpa di Luis Maximiano, e invece un altro portiere, diciamo nel pieno della carriera, che viene a Roma sapendosi e anche con l'ambizione la voglia di giocarsi il posto da titolare, quindi secondo me il titolare sarà Maximiano. E diciamo che un po' di gerarchie nella porta ci devono essere, perché l'abbiamo visto quest'anno al PSG, si è creato un dualismo inutile che non ha giovato né alla squadra, né a Navas e né soprattutto a Donnarumma, quindi diciamo che secondo me in porta delle gerarchie chiare ci devono essere, quindi il primo sono io, ipotesi teoricamente Maximiano, il secondo è Provedel, però Provedel è uno che ovviamente cercherà di scalzare Maximiano dalla porta, è un estremo difensore valido, reduce da un'ottima stagione, e ovviamente non è che ha lasciato la spezia dove era titolare fisso e avrebbe potuto andare in diverse squadre, perché Provedel in Serie A può giocare tranquillamente in sette otto squadre, invece no, ha accettato di venire a Roma una bella sfida, una grande piazza, ma sono convinto per giocare titolare, quindi si crea questa concorrenza, speriamo non dannosa, ma che sia producente per entrambi, è chiaro, però secondo me il portiere titolare sarà Maximiano, a meno che non si disimpegni male, ma io mi auguro di no, è chiaro, perché Provedel è bravo, però secondo me per fare il titolare nella Lazio o non sarà mai pronto, comunque ad oggi secondo me non è pronto, però poi sarà il campo a parlare, però come vi dissi ieri sera, e quindi sembra che la società Povedel ogni tanto mi ascolta, era importante chiudere il portiere a breve, ovviamente non è ancora chiusa, però diciamo che ci siamo, ok, per quanto riguarda Vessino, ripeto, secondo me è una mezzalla che manca in rosa, perché è fisica, perché ha l'inserimento senza palla, che noi oltre a Milinkovic, un pochino Basic, però Basic c'è il rischio che anche quest'anno giochi poco, e manca, il nostro centrocampo manca di quella caratteristica lì, ovviamente ora vedremo se perderemo Luis Alberto, allora dovrebbe arrivare Ilic, ieri sera era uscita anche l'indiscrazione di Racic, Uros Racic, giocatore serbo del 98, se non erro, dal Valencia, perché è un'uscita da Valencia, dove sta l'anno scorso, ha giocato pochissimo e non dovrebbe essere proprio, diciamo, il preferito a centrocampo lì, del neo allenatore Rino Gattuso, però lo stesso agente ha smentito e francamente non so cosa ce ne facciamo di Racic, a parte che non è un grande giocatore, è tra l'altro un lungagnone, 1,93, quindi rischia di avere un centrocampo, che già Milinkovic è titolare, troppo macchinoso, è chiaro, e a Sarin non piacciono quei giocatori lì, davanti alla difesa ti assicurerebbe fisicità, uso di entrambi i piedi, però ecco, secondo me non serve, perché a questo punto ribadisco, allora Antonio poi non gioca, Cataldi allora diamolo via, cioè siamo troppi a centrocampo, è chiaro, quindi Racic in questo momento non serviva, se non avessi preso Antonio ci poteva stare Racic come caratteristiche, ma neanche forse, perché ribadisco, insieme a Savic rischi di avere due lungagnoni che non riescono poi a reggere i ritmi alti. E quindi ecco, siccome si arriva a Vessino, il centrocampo è interessante, poi c'è stata l'uscita, diciamo, dai progetti di Sarri, possiamo dire, di Akpa Pro a centrocampo, che non ha preso parte, non partirà per il ritiro in Germania, rimarrà a Formella ad allenarsi in attesa poi di trovare una nuova squadra. E anche a Cerbi, e qua vabbè, io ribadisco, quando parlo di Francesco a Cerbi, mi viene sempre un po' il magone, perché è assurdo via che sia finita così, però è stata una scelta condivisa da lui, dal suo entourage, dalla società, da Sarri, perché non fa parte del progetto, è inutile che continuava il ritiro dai marginati in casa, quindi si continuerà a allenare a Formella, secondo me a Cerbi aspetta la chiamata dell'Inter, però ribadisco, ve l'ho detto, se si muoverà, si muoverà ad agosto, e secondo me anche abbastanza, verso la metà o addirittura alla fine di agosto. Però una notizia ufficiale, a Cerbi e a Qua Pro non fanno parte dei progetti di Sarri, anche su a Qua Pro bisognerebbe aprire una parentesi, perché la Lazio comunque lo pagò abbastanza, e è un giocatore veramente scabroso, ha avuto quella expluata, vabbè, quella con il Borussia che ha segnato, ha azzeccato qualche partita, però un giocatore veramente da Serie B, è chiaro, infatti non ha mercato, parliamoci chiaro. Keane chissà che magari possa rimanere come riserva delle riserve, però non credo, perché a centrocampo, ripeto, al momento siamo fin troppi, poi c'è sempre da monitorare la situazione Luisa Alberto, Siviglia. Poi chiudiamo con Udogi, perché poi tanti di voi mi stanno chiedendo, Ghiotto, ma secondo te è possibile Destiny Udogi, un terzino lo prendiamo? Io mi auguro di sì, adesso di Isai non se ne parla, però comunque in questi giorni, però rimane in uscita in ottica Valencia, me lo auguro, perché Isai è un giocatore veramente inutile, e libererebbe lo spazio per un terzino sinistro. Ragazzi, Udogi è difficile, innanzitutto perché è ambito, perché se lo vogliamo noi, magari non lo leggiamo, ma lo vogliono sicuramente tante altre squadre. E la bottega friulana, bianco-nera, costa ragazzi, ce lo direte, lo sappiamo, forgia spesso dei talenti puri e se li fa pagare, giustamente. Quindi ti chiederanno, ma 20 milioni secondo me sono pochi, anche di più, quindi ragazzi è veramente difficile, è chiaro. Cioè, o ripeto, o va via Luisa Alberto e riesce a prendere un centrocampista low cost, che però non è Illich, perché Illich ti costa, è chiaro, è vero che magari farai dei pagamenti dilazionati, però non credo. Ecco, Udogi mi sento dire che è veramente un'operazione utopica, però, per carità, poi le vie del mercato sono infinite, il giocatore lui ha detto che gli piacerebbe provare un'esperienza in Inghilterra, però poi se ti chiama la Lazio, sicuramente ha un salto di qualità. Sicuramente è più fattibile un terzino come Valeri, come Emerson Palmieri, che è in uscita dal Chelsea, lo sappiamo, però intanto comunque sia un terzino arriverà se andrà via Isai, poi abbiamo ancora degli Esuberi, vari Durmisi, Fares, quindi teniamo conto anche di questo, è chiaro. E poi ricordiamo che è vero che noi tanti pagamenti che facciamo, vedi Casale, vedi Cancellieri, sono dilazionati, ma anche i soldi che riceviamo da Murici, per esempio, non è che ci arrivano cash. Ho fatto il video ieri, ve l'ho spiegato, arriveranno in tre rate, cioè voi dovete considerare anche quello. E' vero che noi magari quei 10 milioni per Casale non è che li diamo sull'unghia, è normale, non lo fa nessuno quasi, ma neanche i soldi che ricaviamo. Quindi tirare fuori 20-25 se bastano per Udoggi, è secondo me obiettivamente un po' dura. Poi ripeto, è un mio ragionamento che faccio, e poi tutto può essere, ma sicuramente adesso priorità alle cessioni, perché anche Acerbi fuori rosa, ma chi lo compra Acerbi, chi è che spende 3-4 milioni per Acerbi? Chi è che spende 3-4 milioni per Isai? Perché lo tito chiede quei soldi lì. Dovete considerare anche quello. Comunque, la situazione è un po' questa, provvedele Vessino, molto vicino alla Lazio, bene così. Ragazzi, ribadisco, like, iscrivetevi al canale, e forza Lazio! Ciao!